Eccoci qua sempre con Andrea Di Marco alla parte tecnica, siamo quasi alla fine della prima finale di questa giornata al nuoto artistico al Pietrangeli è una giornata che si annuncia storica, intanto grandi soddisfazioni sono già arrivate, possiamo dirlo con quasi certezza che Linda Cerruti sarà sul podio del solo tecnico per ora al comando l'italiana con una splendida esecuzione, 90.8839 una prova di qualità, era un po' più tesa all'inizio, si è sciolta nel finale, è stato un crescendo il suo esercizio molto commossa in lacrime, dopo il punteggio che i giudici le hanno assegnato si è lasciata dietro, intanto la greca Plataniotti che è scivolata al terzo posto superata anche dall'Austriaca, ma di origini greche, Alexandri Basilichi e insomma per ora Italia, Austria, Grecia, siamo all'atleta numero 18 in acqua ne mancano ancora tre e l'ultima, la numero 21, è la più forte di tutte ed è l'Ucraina Marta Fiedina dunque per ora Linda Cerruti al comando davanti a Alexandri Basilichi e Evangelia Plataniotti però dobbiamo dire che Marta Fiedina è la più accreditata della vigilia, dunque ci aspettiamo una grande prestazione da parte sua così come è stata in realtà quella di Linda Cerruti che dunque è sicuramente sul podio, vi sapremo dire con certezza fra qualche minuto con quale medaglia ci sono i mondiali, gli europei di nuoto in questi giorni al Foro Italico, ci dobbiamo un attimo collegare con la nostra redazione sportiva e per noi al Foro Italico, Manuela, Manuela ci chiedevi la linea Eccoci, eccoci Giulia, per confermarvi quello che vi avevamo anticipato, la splendida medaglia d'argento di Linda Cerruti nel solo programma tecnico Linda Cerruti battuta soltanto dalla fortissima atleta ucraina Marta Fiedina Oro, 92.63-94 il suo punteggio per l'Azzurra, 90.88-39 comunque una splendida prestazione la sua, ha battuto l'Austriaca Alexandri Basilichi che si è invece fermata al terzo posto e piedi del podio l'atleta greca Plataniotti dunque prima medaglia in questa seconda giornata degli europei di nuoto per l'Italia arriva da Linda Cerruti l'argento nel solo tecnico e fra poco c'è il debutto assoluto di Giorgio Minisini nel solo programma tecnico lo seguiremo insieme con Carlo Verna, per ora a voi la linea grazie